tutto abbronzato un po' infuocato perché oggi il protagonista di questo video non solo lui ma soprattutto lui è King l'incendio infatti oggi in questo nuovo tipo di format andiamo ad analizzare i magazine e data book parliamo delle nuove info pervenuteci King ha una taglia di un certo spessore che però non è a livello di roof e infatti come noi avevamo auspicato la taglia di King è vicina a quella di Queen e anche di Marco infatti se ricordate le traduzioni dei data book precedenti vi dicevo la taglia di Marco no oggi abbiamo scoperto quella di King un miliardo e trecento novanta milioni ricordatevi che invece quella di Queen è un miliardo e trecento venti naturalmente aspettiamo sempre le conferme che ci vengono date però poi di vederle all'interno del manga dopo i video teoria dopo i video analisi dopo quelle che sono le live aperte con ospiti a tema eccetera eccetera portiamo questo nuovo format no anche le oppi storie se non ce le dimentichiamo se no brooke ci rimane male detto questo adesso vi vado a leggere un attimino tutte quelle che sono le info che abbiamo ottenuto la taglia di King abbiamo detto un miliardo e trecento e novanta milioni la taglia la taglia di Vuzvu 546 milioni la taglia di Sasaki 472 milioni la taglia di Black Maria 480 milioni la taglia di Ulti 400 milioni la taglia di Pejuan 290 milioni veniamo a sapere che Black Maria contro Robin sta combattendo in forma ibrida viene svelato il nome del frutto di Strachemennapu viene svelato che Onimaru ha ingerito un frutto Omo Omo modello Monaco vabbè King ha 47 anni e 6 metri e 13 Queen ha 56 anni 6 metri e 12 Kaido come avevamo detto in tempi non sospetti e Katakuri ha 59 anni ed è 7 metri e 10 tutti e tre sono nativi della grande line Yamato viene confermata come donna Vuzvu viene da Nord Blue Black Mary e Diwano gli altri di Tobi Loppo sono della grande line Black Maria ha 29 anni Ulti 22 pejuan 20 poi ci viene detto che il numero 8 dei Numbers Accia ha 188 anni incredibile e proviene da Punk Hazard anche lui incredibile poi ci sono altre info che adesso vi vengo a dare anche che pervengono dal magazine no c'è anche un nuovo capitolo disegnato da Boishi sempre per quanto riguarda la novella di Ace e non vi dimenticate vabbè queste qua ve l'ho dette già abbiamo detto l'età di Kaido l'altezza di Kaido Yamato vabbè è una donna ma questo lo sappiamo lei si dichiara Ode ma comunque è una donna abbiamo detto qual è la taglia di King abbiamo detto l'altezza all'età abbiamo parlato anche di Queen abbiamo parlato di vari Tobi Loppo a tutti Tobi Loppo risultano essere possessori dell'acchi dell'armatura e dell'acchi della percezione anche se alcuni come abbiamo visto nel manga non sembrano avercela mostrata insomma da questo punto di vista però noi vi riportiamo le informazioni c'è sto leggendo le informazioni che ci vengono riportate da appunto dai data book vediamo vabbè qui ci sono altre piccole informazioni il soprannome di Wuswue lascia perdere il Sasaki ha anche un soprannome Sasaki sommerso diciamo che è un modo di bere il sakea ok abbiamo detto questo questo l'abbiamo già detta vediamo 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 vengono mostrate le varie schede le varie schede tra cui anche una su Sabo nel infatti sul magazine vengono mostrate alcune informazioni che riguardano Rufi e Ace e Sabo sapete il collegamento fra tutti e tre fratelli e questo è molto importante vabbè il compleanno di King il primo dicembre non so quanto vi può interessare anche il suo piatto preferito poi queste cose che ho visto dicendo come video voi le potete leggere su Facebook e su Instagram no? Ah viene detto che due anni fa quando Shanks e Rosso con la Satsuma fermarono Kaido no dal presentarsi a Marineford con Kaido c'era anche King e venne fermato anche lui non so perché hanno sottolineato sta cosa ma comunque io ve la dico lo stesso no? Ah Yamato 28 anni è nata il 3 novembre e due metri e sessantatré il cibo preferito è il salmone e anche l'Oden guarda caso insomma incredibile il cibo preferito di Kaido è il sake come insomma il cibo che poi il sake è una bevanda però va bene uguale ah ci sono varie definizioni per Kaido la creatura più forte del mondo Kaido delle bestie addirittura il re della saggezza il mio no? Il fudo mio vi ricordate? Re della conoscenza della saggezza però viene anche detto il più grande arrogante del mondo l'arrogante più forte del mondo come doppia contrapposizione questa qui di Marineford ve l'ho detta già l'età di Komurasaki a 26 anni che poi Komurasaki è iyori quindi insomma un'età che già sapevamo. Ah Tenguyame Tetsuo a 58 anni questo è interessante nel nativo di Uano anche non poteva essere altrimenti. Old incredibile Oldem a 30 anni cioè non so perché danno l'informazione su Olde. Sasaki a 34 anni. Ah questo è importante sulla carta di Onimaru si parla del suo maestro Ushimaru Ushimotsuki no? Abbiamo parlato nell'ultimo capitolo vi invito a recuperare l'ultima live faccio una cosa l'ultima live no? Abbiamo parlato di Zoro abbiamo parlato di Sanji abbiamo parlato di King di cui io vi rimando i video no? I nostri video su Sanji in cui abbiamo parlato del fatto che lei fosse il capolavoro della Gemma 66 e che grazie alla tuta la Red Suite potesse avvenire un qualche suo parola sta succedendo. Di King che fosse appartenuto a questa razza no? Vi parlamo di King vi parlamo della razza vi parlamo di tante altre cose no? Tra cui il fatto che eh ci fosse un collegamento con l'isola nel cielo. Suki vi parlamo il fatto delle tre razze che c'erano no? I nativi di Angel Island Angel Island di Shandia e nativi di Bilka. Facciamo un collegamento. Vi dicemmo che vi era una razza che poteva essere stata rinnegata in qualche modo. Vi parlamo di Eneru con le sue mini avventure vabbè questi sono i video che vi dobbiamo lasciare. Importante anche sottolineare il fatto che King abbia una taglia più alta di mano. Di poco eh perché uno è un miliardo e trecentosettantaquattro milioni e l'altro è un miliardo eh trecentonomanda quindi parliamo di bazzeccole però è più alto quindi qualche cosina potrebbe anche significare. Il fatto di Zoro Shimozuki noi ne abbiamo parlato in un video due anni fa settembre duemila diciannove in un altro video che abbiamo fatto duemila venti ma prima di essi tre live del duemila diciotto in cui parlamo della Emma eh scusami della Guadri Cimongi ho detto la Emma perdonate la Guadri Cimongi abbiamo parlato del fatto che provenisse da Wano il maestro di Zoro il fatto che del villaggio Shimozuki il fatto del mese di nascita di Zoro il fatto del collegamento fra Zoro e Ryuma il fatto storico e culturale abbiamo parlato che non poteva essere che questa volontà di passare la Shusui e fosse stata un caso abbiamo parlato del fatto che delle parole del maestro di Zoro che può tagliare tutto e può tagliare niente fossero le stesse di Yogoro abbiamo parlato del collegamento con Yoshitsune Minamoto che combatte sul ponte di Ringo con il bandito che era Benkei e quindi Zoro che combatte con Kyukimaru non che lo va a rappresentare abbiamo parlato un po' di tutto quindi io vi rimando ai nostri video per la sicurezza no di quello che uno poi va a esplicare il tutto ora ve lo so dicendo riassuntivamente no perché altrimenti poi dopo cosa l'ho fatto a fare il video insieme a Katakuri quindi sembra questo comunque vi lascerò qui in descrizione i video sull'origine di Zoro però vi lascio solo l'ultimo non ve li lascio tutti il video su Sanji il video su King vi ripeto di recuperare naturalmente quelle che sono le live soprattutto l'ultima abbiamo fatto domenica e queste info io vedo alcune info generali volevo dare quella più importante che è la svelata la taglia di King no? miliardi e 390 milioni però poi scritte troverete su Instagram e su Facebook tutto perché quello è un aggiornamento non in tutto escono i capitoli escono le info escono i magazine escono i data book e noi vi portiamo il tutto quindi io non posso fare altro che ringraziare chi ci ha seguito in diretta chi lo farà in differita come sempre dice voi cosa ne pensate qui nei commenti e se vi piace questa rubrica tempo permettendo e bellezza costante permette noi saremo qui a portare quella che è solo la verità come sempre teorie un capitolo cinque teorie c'è incredibile tre anni fa l'abbiamo fatta e oggi io e Katakuri scriviamo e ho da prendi appunti detto questo un bacio vi ringrazio spero vi sia piaciuto questo video King vince un miliardo e 390 milioni non so se avete capito un saluto scriveteci qui nei commenti voi cosa ne pensate come sempre anche un commento da sfogliatori o sfogliatrici